Di nuovo in diretta 1500 minori e 380 persone con disabilità, sono i numeri per quanto riguarda Roma delle persone che risiedono nelle case famiglia, ebbene per loro il comune stanzia di fatto ogni giorno meno della metà di quello che servirebbe, due dati li diamo noi, 144 euro a fronte dei circa 250 necessari per quanto riguarda persone con disabilità grave, addirittura 70 euro stanziate a fronte di 170 che sarebbero necessari nei casi di minori. Questo è solo un dato che fotografa però la crisi e lo stato di abbandono nel quale versano le case famiglia della capitale, strutture che nella nostra città si occupano ovviamente di accoglienza per disabili e non solo. Molte di queste strutture, molte di queste case famiglia sono rappresentate da un'associazione Casa al Plurale, io saluto e ringrazio il Presidente dell'Associazione Luigi Vittorio Berliri, ben trovato e buongiorno. Ieri avete presentato in Campidoglio un dossier con dei dati molto puntuali relativi alle cifre delle case famiglia, però facciamo un passo introduttivo, quante sono le case famiglie a Roma e a che servono e a chi servono. Benissimo, ieri siamo in Campidoglio e abbiamo presentato alla presenza degli assessori e le politiche sociali per la prima volta insieme, Regione e Comune, siamo contenti di questo, un dossier sui costi delle case famiglia. Che cos'è una casa famiglia? Una casa famiglia è una casa, una casa normalissima in un condominio, normalissimo con i requisiti di una casa di ciascuno di noi. Con qualche differenza chi abita in queste case famiglia? Abitano persone con disabilità che non hanno più i genitori, il cosiddetto dopo di noi, dopo che un genitore di una persona con disabilità muore o non ce la fa più perché l'età sopraggiunge, chi si prende cura del proprio figlio? Il Comune di Roma dovrebbe prendersi cura delle persone con disabilità che rimangono orfane, che rimangono senza genitori, non più istituti, non più casermoni, non più all'abbandono di queste persone, ma la possibilità di vivere in piccoli nuclei familiari, gruppi di 6-5 persone con disabilità assistiti mattina, pomeriggio, notte da operatori qualificati, da educatori professionali che si prendono cura di queste persone. Sabato, domenica, Natale, Capodanno non si chiude mai, è un servizio che ovviamente è la loro casa, è sempre aperto, però sono persone con bisogni particolari, molti di loro hanno bisogno di essere seguiti, vestiti, lavati, qualcuno imboccato a seconda poi del tipo di disabilità e di progetto e di necessità che la persona porta. E queste sono alcune delle case famiglie, sono 54 le case a Roma, do così un numero velocemente, a Torino sono il quadruplo, le case famiglie per persone con disabilità, il Comune di Torino stanzia 60 milioni di euro per le persone con disabilità, il Comune di Roma ne stanzia 15. Ricordando che il Comune di Torino è un quarto, grosso come un municipio di Roma, esatto, due municipi forse, con un quarto della città di Roma. Eppure le risposte diverse sono possibili, non parliamo della Francia dove stanno molto più avanti, poi magari ci arrivo. Poi esiste un'altra tipologia sempre di case famiglia, questa volta per bambini, per minori, per ragazzi adolescenti. Chi va a finire in queste case famiglia? Vanno a finire in queste case quei bambini che non hanno più il supporto dei propri genitori, perché ai genitori gli è stata tolta la patria potestà temporaneamente o definitivamente a seconda dei casi. Sono bambini bambini che spesso poi dopo vanno in adozione, ma non sempre. E perché non sempre vanno in adozione questi bambini? Primo perché spesso sono grandicelli e un bambino di 14 anni è più difficile da mettere, da trovare una famiglia disponibile all'adozione. Io dico sempre, magari fosse, che ci fossero tante famiglie disponibili all'affido familiare, all'adozione. Non è così facile. Sono ragazzini che arrivano da storie di violenza, di abusi, di abusi subiti dai propri genitori, dal proprio contesto familiare, in cui già l'idea di famiglia per loro è un po' strampalata e ricostruire un tessuto di fiducia per questi bambini, per questi ragazzi è un lavoro veramente serio, complesso, complicato. Non è una robetta che si fa mettendo lì un volontario o una famiglia generosa. In questo caso quante strutture a Roma si occupano? Nel Roma e nel Lazio sono 1500 i minori accolti nelle varie strutture che esistono. Esistono strutture di tutti i tipi, bambini più piccoli, bambini più grandicelli e tanti minori stranieri non accompagnati. Sono i ragazzi che sbarcano con i gommoni e con i trasporti più disparati dal Mediterraneo e non solo dal Mediterraneo, dall'Iraq, dai paesi in guerra, dall'Egitto. Scappano in tantissimi. E c'è un dovere morale, civile, ma anche per legge, da parte dei sindaci, delle città, di accogliere finché sono minorenni queste persone nelle varie strutture. E questo voglio dire una cosa. Per questi bambini, per questi ragazzi, l'opportunità che gli si offre è di avere una casa, un contesto educativo e non la strada, e non la delinquenza, e non altro. E quando escono da questo percorso, tantissimi di loro trovano lavoro come pasticcere. Ecco, stamattina eravamo a discutere di un ragazzo che ha trovato lavoro come assistente per l'equitazione. È il suo mestiere, il suo lavoro, il suo futuro, che è una cosa ben diversa dal portare una valigia di coca da Torino a Bari, dove ti danno con pochi soldi, o per una ragazzetta. Ecco, qui siamo su Via Salaria, questi studi sono su Via Salaria, venendo, ho incontrato tante ragazzette, che è un mestiere più facile, più semplice, quello di vendersi in mezzo alla strada. Sicuramente non dignitoso, come poter avere una prospettiva di un futuro anche di non delinquere, anche di non delinquere per il resto della società. Quindi voglio dire anche un interesse, diciamo, collettivo, oltre che di quella persona. A proposito di questo aspetto di umanità e di socioeducazione che lei sottolineava, diciamo subito che è difficile anche un po' cinico quantificare quanti soldi servono quotidianamente una persona per vivere anche un'esperienza di questo tipo. Però avete dovuto farlo, diciamo, in questo dossier, compiendo peraltro ieri in occasione della presentazione di questo documento un gesto simbolico che è stata la consegna alle istituzioni presenti delle chiavi, delle strutture che gestite. Erano presenti, ricordiamo, assessori l'ha detto lei, al sociale del Comune e della Regione. Un anno fa le avevate circa, le avevate gettate simbolicamente nella Fontana di Trevi. Perché si arriva a questo gesto simbolico? Così arriviamo anche al contenuto di questo dossier. Bene, l'anno scorso facciamo un flash mob, un'iniziativa con tutti i bambini di tutte le case famiglie, tutte le persone con disabilità, ognuno con un palloncino e con una chiave in mano, simbolicamente la chiave della casa famiglia, che l'abbiamo gettata nella Fontana di Trevi, insieme a tutte quante le monetine. Come un gesto di speranza e anche di richiamare l'attenzione della politica su questo tema. A quel gesto è seguito una promessa non mantenuta da parte del Comune di Roma di un aumento degli stanziamenti necessari per le case famiglie e quindi ieri di nuovo eravamo in Campidoglio. Che cosa è successo? Che la Fontana è stata restaurata e periodicamente le monetine vengono raccolte e vengono donate alla Caritas. Quando la Caritas ha contato le monete che servono per i servizi che la Caritas fa, per una parte perché poi non è che siano chissà quanti soldi, ha trovato un sacco di chiavi. Allora il direttore della Caritas mi ha chiamato dicendo ma nella Fontana hanno trovato un sacco di chiavi e mi ha portato questo cesto con più di 200 chiavi dentro, che ieri abbiamo riportato appunto e riconsegnato agli assessori e simbolicamente gli abbiamo dato la chiave di casa, di una delle case famiglie, dicendo siete voi i responsabili. Perché c'è un tema di responsabilità che significa capacità di rispondere, c'è un obbligo da parte della politica di rispondere ai bisogni della gente. Non è soltanto un problema delle case famiglie, degli antigestori, degli educatori che sono in prima linea. C'è un comune, è una regione, un'istituzione che si fa carico di dare delle risposte e dare delle risposte significa trovare operatori bravi, competenti, preparati, retribuirli, pagare il pane, pagare la luce, pagare la bolletta, pagare tutto quello che serve. Quindi che abbiamo fatto? Ci viene detto ogni tanto ah ma questi servizi costano troppo, non costano né troppo né troppo poco, questo è quello che costano, questi sono i nostri numeri, questi sono i conti, venite a fare i conti. Abbiamo fatto proprio la lista della spesa, questo è l'energia elettrica, questo è il telefono, questa è la luce, questo è il gas, questo è lo stipendio per il responsabile, questo è lo stipendio per gli educatori, questa è la cifra che viene fuori. Se volete far funzionare questo servizio, questo è il costo. E in modo provocatorio ho detto due cose. La prima, se voi andate dal fornaio e chiedete un chilo di pane, il fornaio vi risponde fanno 3,50 euro. Se voi mettete sul bancone un euro e ve ne andate con la pagnotta sotto braccio, se vi va bene vi insegue, se vi va male vi denuncia, state rubando. Ecco, questo è quello che succede alle istituzioni a fronte di un servizio che vale 3,50, ci dà uno, cioè un terzo di quello che dovrebbe. Seconda cosa, per come facciamo noi andare avanti, come stiamo facendo? Stiamo chiedendo tanto sostegno e tanto aiuto, fundraising, raccolta fondi, raccolta fondi che dovrebbe servire per fare dei progetti in più, per fare le vacanze, per comprare un pulmino, per sistemare la casa. Non per il vivere quotidiano. Non per il vivere quotidiano. Sarebbe come se il sindaco si mettesse col cappello in mano, adesso vedevo le notizie che sono andate poco prima di questo servizio, il 21 aprile apre la nuova stazione metropolitana di Piazza Leionio. Si immagini se il sindaco si mettesse col cappello in mano fuori dalla metro a dire fate la carità, date la beneficenza per far funzionare la stazione di Ionio di metropolitana. Quanti cittadini metterebbero la monetina nel cappello del sindaco e quanti insulti si prenderebbe il sindaco? Ecco, questo è quello che le istituzioni oggi stanno facendo, non solo oggi, non solo con questo sindaco. Sono 20 anni che noi portiamo avanti questa battaglia e stavolta la documentiamo con dei numeri molto precisi. Non si può chiedere la beneficenza per un servizio pubblico. È compito delle istituzioni, del sindaco e di chi il sindaco delega e quindi poi dopo delle case famiglie dare delle risposte. Ma per dare delle risposte servono i fondi. Io un paio di cifre le ho ricordate, sarebbe noioso ricordarle tutte, è anche impossibile. Oltretutto mi ricordava sono disponibili anche online, quindi per chiunque volesse approfondirle, non soltanto sul cartaceo ma anche su internet. Però qualche numero lo diamo. Io ho detto in caso di persona con disabilità grave il comune stanzia circa la metà di quello che servirebbe quotidianamente ad una persona, quindi 144 euro sui 250 che sarebbero necessari, 70 nei stanzi al comune a fronte di 170 che sarebbero necessari al giorno invece per un minore. Gli do un altro numero che è abbastanza divertente. Per le donne in difficoltà, cioè donne con bambini, il comune stanzia una retta più o meno di 26,45 euro a fronte di 177 euro che sarebbero necessarie. Qui siamo ben sotto la metà. In realtà paga la retta soltanto per il bambino e non si preoccupa della mamma, ma se non ci preoccupiamo della mamma che sta con quel bambino, quel bambino sarà sempre bisogno di assistenza e qui la mamma avrà sempre bisogno di assistenza. Se noi riusciamo a dare una risposta, non separiamo la mamma dal bambino, li facciamo crescere bene insieme, li facciamo uscire il più rapidamente possibile e facciamo diventare quella donna un cittadino che lavora, che paga le tassi, che non ha più bisogno di assistenza e la accompagniamo ad uscire. In questo modo qua diventano sempre bisognosi di assistenza e basta, che non è quello che noi vogliamo. Poi c'è un altro capitolo non meno importante che riguarda la retribuzione del personale che lavora nelle case famiglia. Diciamo così sono un po' sottopagati. Abbiamo fatto un calcolo paradossale, vale a dire se noi dovessimo con la retta che attualmente ci dà il comune di Roma, retribuire tutto il personale, tutto quello che c'è, senza usare raccolta fondi, senza chiedere agli operatori di ridurre lo stipendio, di ridurre più ore, di fare ore di volontariato in più, che è quello che succede per arrivare alla fine del mese. Se noi retribuissimo tutto, così com'è con 69,75 euro, tanto ci dà il comune di Roma, vorrebbe dire dare costo azienda 3,30 euro l'ora, vuol dire netto in busta 1,54 euro. Ecco io chiedo a lei, lei farebbe il suo mestiere per 1,54 euro l'ora? Siamo al volontariato. Quale mestiere? Nemmeno raccogliere i pomodori nei campi legati come schiavi e per fortuna 1,54 euro l'ora. Quale mestiere? Le pulizie nelle scale sono 8 euro l'ora, le pulizie a casa sono 10 euro l'ora, 1,54 euro è una cifra. Eppure questo è quello che stanzia il comune di Roma attualmente per il lavoro degli educatori professionali, che ricordiamocelo, si prendono cura di ragazzini violentati, maltrattati, di persone con gravissima disabilità. Non è un mestiere semplice, è un mestiere bellissimo, meraviglioso, ma non è semplice. Giuro che per la smettiamo con i numeri quanti soldi in più servirebbero, quanto stanziamento complessivo in più servirebbe per gestire ordinariamente? Perché lei faceva riferimento in realtà quotidiana che spesso richiede lo straordinario, invece ordinariamente? Per l'ordinario servono in tutto per il comune di Roma almeno 30 milioni di euro in più per le persone con disabilità grave, gravissima e almeno 20 milioni di euro in più per i bambini e per i ragazzi in casa famiglia. Questi sono i conti che abbiamo fatto rispetto a quanto il comune dovrebbe stanziare. Da dove prenderli? Beh io penso che dovremmo trovare delle priorità, prima un marciapiede, prima una metropolitana o prima l'accoglienza dei nostri concittadini più fragili. Questo dovrebbe essere la politica a scegliere, a dire questo viene prima di quest'altro. Ho pochi soldi, benissimo, questo viene prima di questo. La politica ieri al tavolo c'era, che vi ha detto? Ha preso un impegno, un impegno concreto. Noi abbiamo chiesto delle cose molto concrete ai due assessori, abbiamo mandato una lettera per il 2015, per il 2016 e per il 2017, chiediamo questo, questo e questo, un aumento graduale delle rette fino ad arrivare al 2017, vogliamo un tavolo di lavoro nel quale fare un progetto individualizzato su ciascuno e gli assessori mi hanno promesso che per iscritto mi risponderanno con degli impegni precisi che si prenderanno rispetto a questi punti. Queste risposte e tutto questo studio dei costi www.casaalplurale.org. Domani pubblichiamo, oggi già trovate lo studio pubblicato e da domani pubblichiamo, se ce la mandano, la risposta dei due assessori. Il clima era di assoluta collaborazione, addirittura ricordavamo che l'assessore del Comune di Roma l'anno scorso non era assessore, ma era in prima linea con noi a Fontana di Trevi a lanciare le chiavi delle case in segno di così, di protesta. Adesso è diventato assessore, è dall'altra parte del tavolo, diciamo in qualche modo ha una responsabilità grossa in più. Ecco, visto che in queste ore è in discussione il bilancio del 2015, in Aula Giulio Cesare ci sono possibilità di qualche impegno per l'immediato? L'assessore ha promesso che questa lettera, con tutti gli impegni che noi chiediamo, lei la porterà in giunta per un emendamento. L'emendamento sarebbe una modifica a quello che la giunta aveva previsto per integrare con i fondi che servono rispetto alle nostre richieste. È una promessa. Ai me di promesse ne abbiamo ascoltate tanti. Ieri quello che ho detto è che gli assessori non vogliamo più promesse, vogliamo risposte. Il modello delle case famiglia si sente di dire che funziona rispetto a quella che era la gestione nel passato, del fenomeno dei bambini minori stranieri non accompagnati, dei bambini lasciati soli per diversi motivi che lei ricordava prima, dell'assistenza alle persone con disabilità più o meno grave. Nel passato si gestiva, lei ha parlato di casermoni, insomma mi sembra il termine che rende l'idea. Il modello case famiglia, la possibilità di dare a questi ragazzi o a queste persone un nucleo familiare, una casa, un ambiente comunque più ristretto nel quale sono seguiti meglio, si sente di dire che ha prodotto dei risultati. Assolutamente sì, posso portare dei dati anche abbastanza concreti. Vi racconterò una storia. Stefano Emilia, Emilia è una persona con gravissima disabilità, non vede, si muove su una carrozzina a un'età più o meno paragonabile a quello di un bambino di 4, 5, 6 anni, ma le emozioni e l'affettività di un adulto, perché Emilia ha la mia età, 45 anni. Stefano vive anche lui in casa famiglia, dopo tanti anni di convivenza, due stanze vicino, si innamorano come è normale che sia, come succede tra tutte le persone che a forza di frequentarsi si piacciono. Si innamorano e cominciano a frequentarsi dentro la casa, fin quando Stefano non invita Emilia ad andare a cena fuori e la porta a mangiare la pizza. Che significa che Stefano porta a mangiare una pizza? Significa che tutto un gruppo di operatori accompagna la carrozzina di Stefano e la carrozzina di Emilia li portano al tavolo, danno indicazioni ai camerieri dicendo fategli trovare la pizza già tagliata, Emilia non vede e così riesce a mangiare meglio e gli operatori si spostano sul tavolo vicino e li lasciano soli. Stefano fa una sorpresa ad Emilia e gli porta una rosa, ma Emilia gli risponde Stefano me so ciegan, ce vedo, che cosa mi hai regalato? E così Stefano descrive la rosa a Emilia. Immaginate che emozione, che bellezza per questa donna ricevere non solo un fiore e il suo profumo, ma la descrizione di questo fiore dall'uomo di cui è innamorata. Ecco, questa emozione, questa vita degna, piena. Emilia era felice, io non ho mai visto una donna più felice di Emilia, era felicissima. È possibile essere felici nonostante la disabilità, nonostante le tante sfige che ci sono, è possibile fare una vita dignitosa e piena se si è messi in condizione di poterla fare, cioè una casa, cioè un gruppo di operatori, cioè chi si prende cura realmente di te. Questo è possibile. L'emotività che suscita ovviamente questa storia mi rende difficile farle la prossima domanda, però è un momento difficile per il terzo settore anche in relazione alle note recenti inchieste della magistratura. Immagino che mediaticamente anche voi siete finiti nel calderone, perché si è fatto tutto un calderone di diverse attività del sociale del terzo settore, ma rispetto anche a storie come quelle che ci ha raccontato, c'è rabbia nel pensare a noi servirebbero del resto 30 milioni, che sono cifre molto più basse di quelle uscite sui giornali in relazione al malaffare legato ad alcuni appalti. Una rabbia fortissima, ma lei se lo immagina un mafioso che accompagna Emilia a cena a fare una roba del genere? Ecco, non c'è questa roba dentro una casa famiglia. Per fare un mestiere del genere ci vuole una predisposizione, un cuore che non ti porta a fare scelte mafiose di quel genere. Però è una rabbia fortissima, perché quando si specula sugli ultimi, sulle persone che hanno più bisogno, la rabbia sale. Io sono sicuro che se la magistratura andrà a scavare sull'urbanistica, sui lavori pubblici, troverà molti più soldi che potremmo mettere a disposizione di esperienze del genere. Però fa veramente male e fa rabbia vedere come c'è stato chi ha speculato, chi ha utilizzato e ha gestito un modo di lavorare che è molto molto lontano da quello di fare impresa e fare business e fare affari mafiosi sulle spalle degli ultimi, dei più fragili, perché c'è proprio un approfittarsi della fragilità che fa rabbia e che fa male. Però questa è anche una risposta, perché la mafia si insinua, la mafia, la criminalità, laddove non c'è chiarezza. Ecco, noi abbiamo fatto chiarezza, questo è quello che costa, non vogliamo un euro di più e non vogliamo un euro di meno. Esattamente a questo serve. Dopodiché venite a fare i controlli e vedete se questi soldi vengono spesi per quello che serve. Perché questo era un altro pezzo del problema per cui è uscito. Dopo cinque anni che tu elargisci i soldi e non vai mai a verificare che cosa succede, qual è il benessere o il non benessere, se quei soldi vengono spesi effettivamente per quello che servono. È chiaro che poi dentro si infila un po' di tutto. Poi c'è anche un po' da parte di certo terzo settore, siccome noi facciamo del bene, facciamo un po' come ci pare. Ecco no, ci sono delle regole precise dentro le quali bisogna stare. Vale per tutti, vale per qualsiasi impresa che tu porti avanti. Ha maggior ragione se porti avanti un'impresa di questo genere. Sicuramente contribuisce, come ha detto lei, a far chiarezza questo dossier. Io la ringrazio. Saluto Luigi Vittorio Berliri, presidente dell'associazione Casa al Plurale. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Ovviamente torneremo a disturbarla se ci saranno risposte da parte delle istituzioni. Questa lettera che avete inviato. Ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità. Rientro e ci sarà Giordano Proietti per un altro approfondimento di oggi qui a 56 Live. Tra poco.